Un applauso, un saluto di benvenuto alla signora Fanelli Buonasera Riccardo Buonasera cara, come stai? Bene, grazie, tu? Bene, vedo proprio un vestito in accordo con la Fisch Sì, fatto apposta è molto carino, tu l'abbia notato, grazie Esatto, non ci mancheremo E sono molto contenta di essere qui e di partecipare con voi, con te a questo che a tutti gli effetti possiamo chiamare un golpe nel palinzesto televisivo italiano Però un golpe, non ti spaventare, non violento Un golpe all'insegna del sorriso Va bene, ok Capisco Allora, in più sono anche contenta perché sono una donna e ho potuto un po' rimpolpare il gruppo delle mie colleghe o delle ciumachelle spiritose come si chiamano alla mensa della RAI Allora, io ci sto, sono con te in questa battaglia Io mi ritrovo però sempre a interpretare questo ruolo del cabarettista romano di mezza età che non era neanche stato considerato nel casting di questo programma Lo devo fare io Va bene, ho talento Ci sto, sono con te Però No, io vorrei dare molto di più a questo programma Io adesso lo faccio La faccio la battuta, quella è L'ho studiato, mi sono preparata e quindi sarà un po' più dinamica oggi perché l'ho visto quello che fanno, no? Anche quindi, va bene Allora, la mafia non esiste a Roma Sì, esatto A Roma la mafia non esiste A Roma la mafia non esiste E' segreto, a Roma manca a metro Funziona Figuriamo se è mafia La nostra Fanelli Ce l'abbiamo solo noi qui in esclusiva a battute Però Riccardo, una cosa Allora, a me quando a parte che sentirli ridere così un po' mi piange il cuore Sì, vabbè, però anche un programma che funziona Sì, anche per questo grazie a me No, ma c'è, ci mancherebbe nessuno Io, scusa le mani addosso però ho visto che toccano il pubblico e l'ho detto, oh, funziona Una cosa, al montaggio questa mano Riccardo a cucchiara levate e me la fate qualcosa Noi ci proviamo ma Io non voglio Grazie